Due medici e un assistente sanitario sono gli ulteriori rinforzi ai dipartimenti di prevenzione di Trieste e Gorizia decisi da Asugi questa settimana dopo quelli disposti nell'ultimo mese allo scopo di sostenere l'urgenza Covid e rinforzare l'opera di tracciamento. Un medico abilitato a Trieste e una a Gorizia, entrambi con contratto di lavoro autonomo, di collaborazione, prorogabili in ragione del perdurare dell'emergenza e, con le medesime modalità, un assistente sanitario a Gorizia. Assunzioni che vanno a sommarsi alle altre rientranti nella manovra del personale 2021 operata allo scopo di garantire i servizi sulla base delle esigenze rappresentate dalle strutture. Si tratta di un dirigente medico in igiene, epidemiologia e sanità pubblica a tempo indeterminato da assegnare la direzione medica di presidio, un dirigente medico in gastroenterologia a tempo determinato da assegnare la gastroenterologia in sostituzione di un medico assente, quattro dirigenti medici in disciplina radiodiagnostica a tempo indeterminato di cui uno a ristorio di una cessazione programmata e tre finalizzati a garantire la copertura della radiologia d'urgenza nelle fasce orarie notturne, due tecnici di neurofisiopatologia a tempo indeterminato da assegnare alla pneumologia, 40 assistenti amministrativi di cui 28 già dipendenti a tempo determinato e 12 a ristoro di cessazioni di personale che si verificheranno nei prossimi mesi.